ci siamo tutto pronto si aprono le gabbie partiti cavalli della settima corsa di quest'oggi vediamo l'aspetto tattico che sarà certamente determinante parte bene ethos che si porta subito a condurre nei confronti di casale bottone e nottingham i due differenziati solo dai bracciali in quarta posizione troviamo la figura di birindelli in quinta invece cianguro basca precedere c'era una volta che ha chiuso la favorita ancora old fox e donna in essa a completare il quadro dei nove partecipanti sempre ethos con la sua cadenza graduare in testa con il suo classico ruolo da front runner in seconda posizione troviamo nottingham in terza invece casale bottone poi la figura della grigia e c'era una volta precedere old fox birindelli ancora donna ines con alle sue spalle anche lethal song che chiude il drappello dei partecipanti cavalli che galoppano la fascia centrale della pista sempre ethos al comando nei confronti in questo momento di birindelli che ha guadagnato qualcosa al suo interno poi nottingham ed ancora casale bottone poi old fox c'era una volta c'anguro basca ed ancora donna ines lethal song a parte quest'ultimo il gruppo è comunque ben raccolto sempre ethos con un paio di lunghezze di vantaggio in seconda posizione all'inseguimento c'è birindelli in terza ancora nottingham che gravita all'esterno di old fox poi casale bottone che scivola in quinta posizione a precedere c'era una volta ed ancora c'anguro basca alle cui spalle c'è donna ines in coda a tutti ancora lethal song cavalli che entrano in questo ordine indirittura d'arrivo sempre ethos davanti con birindelli il primo a gettarsi al suo inseguimento deve solo scegliere se di dentro o di fuori in questo momento prova a andare di dentro old fox che segue invece birindelli come un'ombra c'era una volta sposta al centro della pista stessa cosa fanno casale bottone nottingham e ancora c'anguro basca poi donna ines che invece si avvicina per varchi al paletto dei 400 ancora da percorrere c'è ethos davanti nei confronti di old fox che si avvicina minaccioso all'interno c'è birindelli poi ancora donna ines c'era una volta e c'anguro basca con gli ultimi 300 metri da percorre old fox che è leggero vantaggio insieme a birindelli i due sono comunque molto larghi ci prova donna ines a gettarsi all'inseguimento con old fox contro donna ines old fox che si salva dal finale di donna ines per il terzo c'era una volta vince old fox doppio in giornata per gabrile cannarella il training è quello di jacomo bindi colori di barbara liberatore vince il numero uno dello schieramento nei confronti del 6 poi per il terzo posto il 4 164 l'ordine d'arrivo dell'handicap sul miglio e mezzo in pista derby questo è il risultato della settima corsa per old fox vittoria numero 5 in carriera quindi 1 6 e poi 7 167 l'ordine d'arrivo ufficioso numerico probabile della settima corsa di quest'oggi grazie a tutti